Donne a confronto per raccontare l'amore, la tradizione, ma anche per raccontare il luogo in cui si vive da generazioni, in cui ciò che si tramanda è soprattutto vita. Ci sono voluti vent'anni per raccogliere le storie delle donne di Varivecchia in un libro intitolato 50 di semola, 50 di farina. Non soltanto la ricetta perfetta delle orecchiette, il piatto principe della città vecchia, ma la ricetta della famiglia, della condivisione, dell'amore come già detto. Almeno secondo l'autrice del romanzo, edito da Secop, Ada Bagnato Ranieri, che l'ha presentato a Bari in un incontro organizzato dal Rotary Club Bari Ovest. L'intuizione è stata quella di far parlare le donne, che sono una struttura portante della Borgantico. È stata una scoperta la mia, quella della città vecchia è stata una scoperta. Io sono di Legge Leccese, però ho studiato a Bari, laureato a Bari, tutto a Bari. E quando ho cominciato a frequentare la Borgantico, l'ho fatto in maniera come di sperimentale e professionale, perché ho scoperto un'umanità incredibile, una umanità sana. Uno pensava a Bari vecchia, si diceva, ma Bari vecchia si coniugava con lo scippo, non era vero niente. Un'umanità incredibile, ma anche nella non regola c'è sempre un forte senso dell'altro, l'alterità era una cosa fondamentale. È un libro anche intergenerazionale, parlano da ragazzine, dalle studentesse borghese, dall'intellettuale, le donne poverissime, le vecchiette. Lo chiamo un romanzo saggio perché ha una sfumatura di profonda indagine psicologica che trova proprio nella povertà, nella umanità meno abbiente, un grande potenziale umano.